Siamo in onda? Abbonatevi al palco off, questo è il grido che Milano lancia ai suoi cittadini. Palco off, la seconda rassegna autori, attori, storie di Sicilia al Teatro Libero. Stagione teatrale 2016-2017 da non perdere. Full of surprises, ci saranno tantissimi spettacoli. Il primo ad aprire la stagione è Terra di Rosa, 11, 12 e 13 novembre, uno spettacolo meraviglioso. A seguire ci saranno tanti altri spettacoli molto belli, ma perché parlare del futuro quando si può parlare del presente? Terra di Rosa, 11, 12 e 13 novembre. Abbonatevi al palco off! Wow, ce l'ho fatta! Buona la prima! Grazie ragazzi, non ci faccio più! Ah, non è!